Oh, è partita, spingo le parole! Qua mi faccio il devasto, vai! Vai pure su! Non va a farlo! Ah, devi vedere che cazzo io ho combinato a questo! Ma syntax error! Torna su MS-DOS, che cazzo ci fai qua? Non ci sta nessuno! Westland è un vanda desolata, però, ho capito che si chiama così, però... Una persona ci potrebbe anche stare, eh! E-A-Sport, it's in the game! Alla! Non me ne prego un... Però ho preso l'arriere! Fra! Porca troia! Ho preso l'arriere, fra! Fra, ho fatto tripla! Quando ho fatto con la... Ma ho tolto l'arriere! Ehi, blow! Ho fatto il cazzo, eh! Cioè, raga, hanno vinto! Cioè, ti rendi conto! Quello sta l'arriere! Cioè, mi sono fatto battere da un c***o! Guarda che livello sta! Livello 70! Prestigio 1! Ma ti rendi conto? Guarda questo! Antonello! Antonello! Guarda che livello! Guarda che livello! Grazie a tutti